vi presento l'amicina che ha fatto i gattini l'altro giorno i primi di luglio è un amore lei insieme sui piccolini ti mando questo video carestia e grazie ad ariete solitario per le lattine che sta mandando per loro e per gli altri gattini che hanno di bisogno ariete solitario